Bentornati su MyFootballJersey. Oggi rivediamo una maglia che abbiamo già visto in versione player, trovate qui in alto la recensione. Questa, come avrete capito, è la prima maglia del Milan, questa volta in versione fan, la maglia di Ibra. La maglia di Ibra. Maglia molto bella. Non amo, diciamo così, il Milan. Non è la mia squadra del cuore, ma questa è stupenda. Nella mia classifica prende 5 stelle. Mio figlio, che non tifa questa squadra, ci smette comunque questa maglia perché gli piace tantissimo. Il che dire molto basso, tra l'altro, include anche le spese di spedizione, quindi voglio dire, fate voi i vostri ragionamenti. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo che avevate visto prima diventa ancora più basso. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, io spero possiate regalarci un grande like e iscrivervi al canale. Quello che fate è un piccolo gesto, spingete il bottone, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.